Ecco un magnifico esemplare di sfinge della quercia, questa è una farfalla piuttosto rara, il bruco si nutre delle foglie delle quercia e soprattutto del leccio e della sughera, potete notare nell'adulto la forma particolare delle ali che l'aiuta a mimetizzarsi proprio con le foglie di quercia. Questa farfalla compare in estate, deporrà le uova sui cespugli delle sue piante ospiti e il bruco è possibile vederlo dalla metà dell'estate fino a ottobre. Poi si incrisalida, farà la metamorfosi e l'estate successiva uscirà la nuova generazione di adulti. Questa qui probabilmente è una femmina, si riconosce dalla forma delle antenne, è una delle più grosse farfalle che possiamo trovare in Italia. Questa è una femmina, si riconosce dalla metà dell'estate. Questa varia la metà dell'estate. Questa è una femmina, è una femmina, si riconosce dalla metà dell'estate. Questa è la fem.